Un saluto a tutte e a tutti, le amiche e gli amici che si appassionano di scienza in questo periodo in cui la scienza sembra portare non quel messaggio di certezza e di speranza che tutti vorremmo. Tutti coloro che si trovano un po' vittima, sentirsi un po' frastornati da tanta informazione e poca chiarezza. Se c'è una parola che si sente tutto il giorno su tutti i canali di informazione è vaccino, ma se noi ci chiediamo che cos'è un vaccino, come funziona, ecco qui purtroppo una conoscenza diffusa di base di tutti i cittadini è ancora un traguardo da raggiungere. Per questo vogliamo come Biblioteca di Brugherio portare il nostro piccolo contributo di chiarezza, di diffusione di quelle conoscenze che ci permettono di essere cittadini consapevoli, responsabili e sovrani. Abbiamo quindi un ospite di eccezione, posso dirlo, lo si dice spesso ma stavolta è proprio vero, perché è una vita da immunologo, il professor Guido Forni, che per tutta la vita si è occupato di immunologia, si è occupato di vaccini, sia come ricercatore, sia come docente universitario e anche adesso che si potrebbe godere una meritata pensione, spende le sue energie per portare un po' di conoscenza diffusa su questo tema così importante, soprattutto in questo momento. Ti saluto e ti ringrazio, benvenuto a Brugherio come prima cosa. Grazie a voi, grazie dell'invito, molto gradito. Anche se solo virtualmente, quando la pandemia finirà ti accoglieremo di persona, volentieri insomma. Io gli ho mandato, vi confesso, una serie di domande che sono le domande che io ho e che sento in giro e che sono tante, che sono anche domande a cui io davvero desidero una risposta. Il professor Forni si è preparato a puntino con grande diligenza e quindi si è proprio preparato una presentazione che vuole essere il più chiara possibile, a prova di me, che non so nulla di immunologia, non so nulla di... tranne le cose, devi saperlo, che ci ha raccontato Antonella Viola in una delle conferenze che abbiamo fatto. Ha stata una magnifica conferenza, profetica, perché allora non si parlava di pandemia. Ecco, ma adesso che ci siamo in mezzo io vorrei che tu ci aiutassi a capire cos'è un vaccino, chi lo produce, se è pericoloso, se ci risolverà i problemi, AstraZeneca, Moderna, mRNA, non si capisce più niente. Puoi portarci un po' di chiarezza? Proviamo, anche se si tratta sempre di interpretare dei segnali e delle informazioni che non sono mai definitive, mai come in questo tempo stanno cambiando rapidamente. Nel giro di pochi giorni un problema assume aspetti differenti, quindi non è facile dare delle informazioni definitive e chiare. Diamo delle interpretazioni sui vari momenti di come si sta evolvendo una realtà drammatica, ma anche molto interessante. Ok, possiamo incominciare con la prima domanda che cos'è un vaccino e inizierei col dire che cos'è, che cosa non è un vaccino. Voi leggete spesso, tutti noi leggiamo spesso sui giornali, sentiamo alla radio, che i vaccini vengono anche chiamati come antidoto oppure come un siero. I vaccini non sono né un antidoto né un siero, non sono un farmaco. I vaccini non hanno un'attività biologica propria contro gli invasori e contro i microbi. Noi possiamo immaginare i vaccini piuttosto come una specie di esercitazione che viene fatta al nostro sistema immunitario, una specie di ginnastica specifica, una esercitazione per imparare a combattere contro un eventuale nemico. Cioè quando noi ci vacciniamo il nostro sistema immunitario impara a combattere contro un finto nemico per essere in grado di combattere molto efficacemente contro il nemico vero. Durante questa esercitazione, durante questa ginnastica, il nostro sistema immunitario in maniera fantastica diventa estremamente efficiente nel combattere nell'invasore. Tanto è vero che quando arriva il nemico vero, spesso la battaglia è così rapida e così efficace che si considera l'individuo come immune. Una parola legale che arriva dal latino che voleva dire appunto esente dall'obbligo di ammalarsi, è diventata una persona diversa perché combatte quel microbo con una rapidità e con un'efficacia tale da non accorgersi nemmeno che c'è stata l'invasione. Però quello che dobbiamo ricordarci sempre, molto chiaramente quando parliamo di vaccini, è che i vaccini sono l'istruzione, la ginnastica. Chi combatte contro gli invasori non è mai il vaccino, ma il sistema immunitario della persona vaccinata. Questo è il concetto che io vorrei principale di questa mia chiacchierata. Ricordatevi che chi combatte è il sistema immunitario. Il sistema immunitario di ognuno di noi è fatto da tantissime cellule. La maggior parte di queste, quelle che in questo caso ci interessano di più, sono i linfociti presenti nel nostro sangue, presenti nei nostri linfonodi. E noi abbiamo una quantità grandissima di questi linfociti. Ognuno di questi linfociti, qui ho rappresentato con un pallino bianco su uno sfondo blu, ognuno di questi è specifico per un nemico diverso. Cioè nel nostro organismo, nell'organismo di ciascuno di noi, esistono cento miliardi di linfociti in grado di riconoscere ognuno un bersaglio diverso. Cioè noi riconosciamo cento miliardi di bersagli diversi. Un repertorio enorme di differenze immunitarie, di strutture estranee che vengono riconosciute dal nostro sistema immunitario. Praticamente riconosciamo tutti. Qui ho disegnato, non so se riuscite a vedere, in rosa un microbo che arriva nel nostro corpo. Questo microbo viene riconosciuto da uno di questi miliardi di linfociti che ha dei recettori specifici per questo microbo. E voi immaginate che dopo questo contatto, quando il linfocita l'ha riconosciuto, il linfocita si attiva e fa una cosa molto caratteristica. Inizia a riprodursi, a moltiplicarsi. Da un linfocita nasce una popolazione di linfociti tutti identici, tutti in grado di combattere contro questo microbo. Quindi possiamo dire che da un linfocita precursore prende origine un clone, una popolazione numerosa di linfociti tutti uguali, che sono i linfociti effettori che combattono con precisione contro quello specifico invasore. Il clone si espande e questi linfociti effettori, una volta riconosciuti, si diffondono nel nostro organismo. Di solito questo riconoscimento avviene negli organi linfatici che si ingrandiscono e questi linfociti circolano nel nostro organismo per uccidere le cellule infettate dal virus, per produrre anticorpi e per guidare una reazione infiammatoria particolarmente specifica ed efficiente verso quel nemico che è stato riconosciuto. Quello che è interessante è che una volta finita la guerra, una volta eliminato l'invasore, alcuni di questi linfociti effettori che sono diventati grandi, questo clone, persistono per lunghi periodi, costituiscono quello che noi tecnicamente definiamo i linfociti della memoria immunitaria. Cioè il nostro sistema immunitario non solo combatte questa guerra, ma si ricorda della guerra combattuta. Immaginate qui di nuovo un disegno che rappresenta il nostro sistema immunitario. In questo rettangolino qui voi immaginate che ci sono i dieci alla undicesima linfociti che riconoscono dieci alla undicesima miliardi di bersagli differenti. Quando arriva l'invasore, come vi ho detto, si attiva il limpocita specifico contro quel microbo, si attiva e crea una popolazione espansa. Nel nostro organismo si espande questa popolazione che abbiamo visto. Sotto abbiamo la scala del tempo di come si evolve questa reazione. Abbiamo una grossa reazione, abbiamo nella maggior parte dei casi la malattia con la guarigione della malattia e a questo punto la popolazione dei linfociti che ha combattuto incomincia a ridursi, ma non ritorna come prima uno su miliardi di linfociti. Rimane una popolazione più numerosa, persiste per anni questi cloni espansi, questi veterani della guerra contro quel microbo quando è arrivato. E questo è un fenomeno importantissimo che cambia completamente il nostro modo di reagire contro il microbo. Perché? Perché se durante questo periodo in cui abbiamo questa popolazione espansa di microbi, lo stesso microbo sfortunato ritorna dentro di noi, non è più la reazione iniziale che abbiamo visto, ma abbiamo molti più linfociti, molto più esperti a combattere, che si espandono rapidissimamente. Quindi una seconda invasione dello stesso microbo ha a che fare con una reazione immunitaria che possiamo dire cento o mille volte superiore alla prima. Quindi è una cosa importantissima questa memoria immunitaria. Per tutto il periodo in cui rimane, ci garantisce una reazione così forte che quasi non ci accorgiamo dell'invasione del microbo. Quindi possiamo dire che in ogni caso noi abbiamo l'invasione, una malattia più o meno evidente contro l'invasore, qualche volta è una piccola malattia come può essere un raffreddore, altre volte una malattia più grave, un'influenza, un morbillo, una rosolia, una delle varie malattie che abbiamo avuti. La maggior parte dei casi abbiamo la guarigione, in qualche piccolo numero di casi abbiamo delle complicazioni e molto raramente abbiamo eventualmente la prevalenza del microbo. Ma una volta che siamo guariti acquisiamo questa memoria immunitaria, questa memoria formidabile per cui dopo ogni infezione piccola o grande che abbiamo in tutti i nostri giorni della nostra vita, noi sviluppiamo una popolazione di linfociti memoria. Quindi questa generazione della memoria immunitaria è un evento normale e continuo della nostra vita. Frequentemente la reazione messa in atto dai linfociti memoria all'arrivo della seconda volta, della terza volta, dello stesso microbo è così formidabile da rendere improbabile l'ammalarsi di nuovo della malattia infettiva di cui si è guariti. La persona è diventata immune. Allora, quando l'umanità, quando l'intelligenza collettiva degli uomini ha capito l'esistenza di questa memoria immunitaria e la possibilità enorme che aveva questa memoria immunitaria nel proteggerci dal riammalarci della stessa malattia, si è pensato in tanti modi come indurre una memoria immunitaria protettiva senza il rischio, senza l'incertezza di avere la malattia. E se andate negli studi di antropologia culturale delle varie popolazioni vedete come esistevano varie pratiche magiche che guidavano delle operazioni che più o meno efficacemente cercavano di indurre una memoria immunitaria. In Oriente è nato nel Mediorevo una pratica chiamata la variolizzazione, una pratica molto primitiva che era un tipo di immunizzazione estremamente primitivo che in vari paesi dell'Oriente aveva aspetti diversi. In alcuni casi era l'insufflazione di croste del paziente che era guarito da vaiolo, in altri casi erano altri tipi di stimolazione del sistema immunitario nel tentare di indurre la memoria immunitaria. E finalmente con gli studi di Jenner alla fine del Settecento, l'inizio dell'Ottocento, è nata la vaccinazione, cioè è nata questa biotecnologia di importanza fondamentale il cui scopo è indurre una memoria immunitaria senza il rischio della malattia. Quindi per ribadire questo concetto cui veramente terrei moltissimo che vi fosse chiaro il più possibile, ribadisco che i vaccini non sono un farmaco, non sono un antidoto, non sono un siero. I vaccini inducono una memoria immunitaria la cui efficacia dipende molto dalle caratteristiche dell'individuo, dalle caratteristiche genetiche, dallo stato della salute dell'individuo, dall'età dell'individuo e in parte, come magari avremo occasione di parlare, anche dalle caratteristiche del vaccino. È un po' come un diverso sistema di ginnastica, ci sono dei sistemi di ginnastica e ci sono delle esercitazioni più efficaci e delle altre un po' meno efficaci. Qui però il concetto chiave è chi difende non è mai il vaccino. Il vaccino è solo un'istruzione per il nostro sistema immunitario. Chi difende è esclusivamente il nostro sistema immunitario. E nella maggior parte dei casi, quando i vaccini funzionano bene, le memorie immunitarie indotte da un vaccino proteggono in modo formidabile contro il bersaglio verso cui è stato fatto il vaccino, contro l'infezione del microbo contro cui ci siamo vaccinati. Però, come tutte le memorie, come anche la nostra memoria mentale, col passare del tempo la memoria immunitaria tende a svanire e col tempo diminuisce la protezione e per cui è spesso necessario una vaccinazione di richiamo o invece un nuovo contagio se la malattia è endemica e diffusa nella popolazione che stimola notevolmente l'efficacia protettiva della memoria immunitaria. Molti di noi sono stati vaccinati contro il morbillo, altri di noi hanno fatto il morbillo, ma l'hanno fatto una volta sola nella vita, perché probabilmente si sono infettati molte altre volte, prendendo il tram, andando al cinema, andando a prendere i nipotini a scuola. si è riavuti il morbillo, ma la risposta è stata così efficace della memoria immunitaria di cui non ci siamo accorti della malattia. Ma questa nuova battaglia ha ristimolato, ha riattivato la nostra memoria immunitaria rendendola particolarmente efficace. E come la memoria mentale, come le attività del nostro corpo, gli anziani in genere hanno difficoltà a acquisire nuove memorie immunitarie. Il vaccino, la ginnastica, deve essere molto appropriata per riuscire a indurre una persistente memoria immunitaria negli anziani, che hanno difficoltà ad acquisire una nuova memoria, in cui spesso le memorie immunitarie svaniscono rapidamente. A me sembra di aver capito questo concetto molto chiaro, che chi si difende è il nostro corpo, cioè non è un agente esterno. Il nostro corpo si difende sempre, solo che alcuni virus, batteri, microbi, insomma, sono più veloci a riprodursi, sono più forti e quindi la prima volta vincerebbero, ci farebbero ammalare anche gravemente. Quindi il vaccino serve a creare, per cui non è che dopo uno non prende la malattia, cioè il vaccino non previene, non è uno scudo che la tiene lontana, ma semplicemente quando entra di nuovo nel nostro corpo viene subito fatto fuori, è così? Esattamente, quindi il tempo di eliminazione dell'invasore è molto rapido. Tanto è vero che se abbiamo una buona memoria immunitaria non ce ne accorgiamo neanche perché la rapidità è notevolissima. In poche ore eliminiamo il virus del morbillo che è ritornato dentro di noi. Un'efficacia nello scovare e nel combattere quel particolare microbo invasore. A questo punto la domanda che mi era stata proposta è, va bene, questi sono i vaccini, come si mette a punto un vaccino? Chi è che mette a punto un vaccino? Come nasce un vaccino? Il vaccino nasce da tre situazioni fondamentali, poi esistono centomila complicazioni, interazioni tra questi tre diversi sistemi. Spesso è un laboratorio universitario che sta facendo una ricerca biologica di base su un microbo e trova un modo particolare per combattere quel microbo o per conoscere le caratteristiche di quel microbo, per cui si propone di trasformare i suoi studi in una possibile applicazione di un vaccino. In alcuni casi è un'impresa, la famosa Big Pharma, che vede la possibilità di, grazie a tutta una serie di studi che sta facendo, di applicarli per risolvere un problema, per trarre anche un profitto da questa possibile soluzione. In molti casi, e forse nella maggior parte dei casi, è poi lo Stato o sono enti umanitari delle grosse fondazioni che di fronte ai gravissimi problemi sanitari che ci sono nel mondo stimolano e finanziano la messa a punto di un vaccino. Quindi il laboratorio universitario parte con l'idea creativa, l'impresa anche ha un'ideazione creativa che segue una pianificazione di studi, di sviluppo, di ricerca e sviluppo tipica dell'impresa e lo Stato o l'ente invece parte da un problema sociale che intende risolvere. Ma in tutti i casi l'evento fondamentale, quello più interessante, più stimolante, è l'inventare, il mettere a punto una possibilità di vaccino. L'idea è facile da ottenere, si discute, si pubblica, si rende, si condivide quest'idea, dopodiché l'idea deve essere avvalorata da prove sperimentali, dapprima in sistemi in vitro e quando quei sistemi in vitro indicano che sembra che quest'idea davvero funzioni, si cerca di mettere a punto dei modelli animali che riproducono la malattia. Se ci sono degli animali che sono suscettibili allo stesso microbo che si vuole combattere, lo sviluppo del vaccino è notevolmente facilitato perché si può vedere subito se il vaccino protegge l'animale o non lo protegge. Nel caso lo protegga, e questo viene fatto sia dal laboratorio universitario, dall'impresa o dallo stato o ente benefico, a questo punto bisogna fare dei grandissimi e costosissimi studi di tossicologia, essere sicuri che il vaccino non provochi dei danni nell'animale sperimentale. Sono studi complicati, molto costosi e mentre l'idea creativa ha poco costo, mentre gli studi in vitro hanno poco costo, gli studi animali incominciano a essere molto impegnativi. Bisogna avere dei grandi permessi, bisogna giustificarli molto bene, bisogna affrontare dei costi non indifferenti perché oggi gli animali vengono tenuti in condizioni molto molto controllate e poi fare questa tossicologia. Molti dei progetti si bloccano perché non si riescano a questo punto a ottenere dei fondi per riuscire ad andare avanti o perché la tossicologia non è convincente o perché i dati sugli animali dicono che il vaccino che sembrava tanto buono non è funzionato. Se queste cose vanno avanti si prende contatto con gli enti regolatori e si discute come sviluppare il vaccino, ma a questo punto i costi dell'operazione diventano elevatissimi. Un laboratorio universitario in genere non è più in grado di andare avanti e neanche in genere i finanziamenti statali. A questo punto ci vuole un'organizzazione molto complessa come in genere è un'impresa o un grosso laboratorio specializzato nella messa a punto dei vaccini che affronti i problemi di autorizzazione e della sperimentazione sugli esseri umani. E lì nasce la verifica o meno del vaccino. Quando tu dici in vitro significa sono coltivazioni di cellule in laboratorio. Esattamente, esattamente. Si cerca di usare sempre meno i modelli animali, ma i modelli animali rimangono di importanza essenziale per poter andare avanti sugli esseri umani. Quando non ci sono i modelli animali e si passa agli esseri umani, ma tutto è molto più lento, più difficile, più incerto. Certo. E tossicologia vuol dire verificare perché quel vaccino potrebbe avere degli altri effetti oltre a quelli desiderati. Esattamente. Quindi si valuta gli effetti sul rene, si valuta l'effetto sul fegato, sul sistema immunitario, si osservano gli animali per lunghi periodi per essere abbastanza sicuri che non ci siano dei gravi effetti collegati al vaccino. Domanda successiva, come si valuta l'efficacia di un vaccino? Eh già, proprio così. Abbiamo, il laboratorio universitario ha avuto un'idea brillante, è riuscito a fare degli esperimenti, è riuscito a avere dei grandi finanziamenti, ha connesso, si è legato a un ente specializzato che ha stabilito il contatto con l'ente regolatorio italiano, con l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, o con l'Agenzia Europea. A questo punto si è autorizzati, si prepara un dossier, si presentano tutti i dati che si sono ottenuti e si inizia il cosiddetto studio di fase 1. Studio molto delicato perché bisogna avere dei volontari, 10, 20, 30 volontari, che devono essere ben informati dei rischi e su cui si valuta, si cerca di capire qual è la dose di questo vaccino da applicare a un essere umano e se in realtà su questo numero limitato di persone, le persone alla fine stanno bene o c'è qualche effetto per cui non va bene. E questa è la fase molto delicata che ci dice in genere, ma conviene questa dose, c'è una risposta più alta con questa dose, quindi è la prima fase molto delicata degli studi sugli esseri umani. Superata la fase di fase 1 e oggi, come voi sapete, ci sono tantissimi nuovi vaccini contro la Covid-19 in fase 1. Ce n'è circa 120 vaccini che stanno sperimentando questa fase 1 sugli esseri umani. Se questa fase 1 dà dei risultati confortanti, tutti i 10 o tutti i 20 volontari stando bene, non hanno effetti collaterali e sono contenti di aver partecipato a questa impresa, si passa alla fase 2. La fase 2 è molto più complicata, più costosa, deve essere anche questa autorizzata dagli enti regolatori che valutano tutti i dossier ottenuti sui 10-20 volontari iniziali e in questo caso si valuta la sicurezza del vaccino su un numero più grande di persone e qual è la risposta immunitaria indotta dal vaccino. Se il vaccino fa fare gli anticorpi o genera quei linfociti che abbiamo visto andare in circolo e combattere contro il microbo invasore. Questa fase 2 diventa molto costosa perché viene fatta su 100 o più volontari, si terca a secondo del tipo del vaccino, saranno solo adulti o in certi casi sono adulti e bambini o adulti e anziani oppure adulti, bambini e anziani a secondo della ipotetica applicazione del vaccino sulla popolazione. Anche in questo caso dovrebbero essere ben rappresentate le persone di entrambi i sessi e spesso oggi persone di etnie diverse. Quindi lo studio incomincia a assumere dei costi è un impegno di tempo e di energie notevolmente elevato. Se anche questo studio di fase 2 va bene, si passa al difficilissimo studio di fase 3 di tutti cui voi sentite parlare perché è quello che ci dice se il vaccino funziona o non funziona, se il vaccino ha probabilità di controllare con una certa efficacia la malattia o meno. In questo caso lo studio diventa costosissimo perché vengono coinvolte 10.000-60.000 persone, quindi un numero di persone estremamente elevate, che vengono vaccinate e seguite settimana per settimana con dei lunghi valutazioni, si valuta il battito cardiaco, la pressione, i problemi eventualmente avuti da queste persone e si valuta nel tempo. Quindi uno studio di fase 3 è uno studio dal costo e dall'impegno organizzativo veramente molto notevole. Viene fatto su volontari, adulti, bambini, anziani, femmine, maschi di etnie diverse. Quando voi sentite discutere che il vaccino AstraZeneca ha dato dei dati non convincenti, che il vaccino Moderna ha fatto molto bene lo studio di fase 3, e per la distribuzione. Per esempio, in alcuni studi la percentuale di anziani coinvolti nella fase 3 era troppo piccola per trarre delle conclusioni. Nessuno dei vaccini anti-Covid è stato studiato sui bambini perché volevano prima essere sicuri che funzionasse sugli adulti prima di passare sui bambini. Devono essere rappresentate ugualmente le donne e gli uomini. Spesso oggi, come oggi, quando si parla di vaccini globali, bisogna essere sicuri che etnie diverse di paesi lontani, con caratteristiche diverse, rispondono in maniera simile allo stesso vaccino. Quindi lo studio di fase 3 è uno studio estremamente complicato da cui deriva il destino del vaccino. Come voi vedrete, come magari ne parliamo tra un poco, dei tanti vaccini partiti per la Covid-19, molti vaccini sono stati ritirati, vaccini di ditte importantissime che non hanno dato i risultati buoni negli studi di fase 3. Sì, mi sembra molto chiaro. È un panorama che i non addetti ai lavori non sospettano. Sappiamo che c'è uno studio complicato e lungo, ma non avevo mai capito che era di questo genere. Ma quando si dice misurare la risposta immunitaria, si contano gli anticorpi? Esattamente. Si contano e si guardano che tipo di anticorpi vengono indotti e per tutto il periodo della fase 3 vengono controllati una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, dipende da come è impostato questo studio di fase 3. A questo punto, come si autorizza il vaccino e come lo si controlla? Perché tutto questo è sperimentale, fatto su una popolazione di 60.000 persone, come il vaccino della Johnson & Johnson, è un numero enorme di persone. Altri vaccini sono stati valutati su 10.000 persone, altri vaccini su troppo poche persone, per cui si discute se accettarono i dati di questo vaccino. Quindi qui è il punto cruciale del vaccino. A questo punto, tutti questi dati ottenuti, le prove iniziali, sperimentali in vitro, i dati di laboratorio, i dati sui modelli animali, la tossicologia dell'animale, il fegato, il rene, il sistema immunitario, i linfociti, i vari valori ematici che sono stati raccolti in dossier, i dati che hanno portato di fase 1, di fase 2 e di fase 3, vengono raccolti in un dossier e questo dossier viene presentato alla autorità regolatoria. E quindi quando oggi noi discutiamo la lentezza di alcune di queste autorizzazioni che vorremmo più immediate e per la difficoltà e la quantità di dati che l'autorità regolatoria, l'EMA per l'Europa, l'FDE per l'America, la MHRA per l'Inghilterra e così per le varie nazioni del mondo, valuta per decidere se o non accettare questi dati e permettere la produzione e la diffusione di questo vaccino. Qui c'è proprio lo scontro da una parte, il voler fare le cose bene comunque sia seguire le procedure e la necessità di fare il più in fretta possibile in caso di una pandemia come quella attuale, in cui viene visto questo intervento dell'EMA, dell'FDA, dell'AIFA italiana quasi come un impedimento. Ma in queste valutazioni continue le varie autorità regolatorie valutano tutti i dati, le congruenze, le congruenze, se qualcuno è morto per cose morto, se qualcuno è stato male e su 60.000 persone ci sono problemi di ogni genere, c'è quello che ha avuto un incidente stradale, c'è quello che ha avuto un infarto, c'è quello che non dorme più di notte. Capire se ognuno di questi fenomeni ha qualche legame o meno col vaccino, se i dati sperimentali e questi dossier sono fatti bene o fatti male, se c'è lo stesso numero o un numero equivalente di donne e di uomini, se ci sono abbastanza auziani per permettere di diffondere il vaccino sugli anziani o è meglio invece per ora raccomandarlo le persone sotto i 55 anni. Quindi questa è un'operazione estremamente delicata di questi enti regolatori e ogni tanto i messaggi che arrivano sono confusi perché è difficile valutare questi protocolli. Per esempio, ritorniamo il vaccino ad AstraZeneca, forse avete sentito parlare che inizialmente era limitato alle persone sotto i 55 anni. Esatto, sì. Perché? Perché nello studio fatto male da questa AstraZeneca in fase 3 c'erano troppo pochi anziani per dare una minima garanzia realistica che anche sugli anziani andasse bene. Successivamente in Inghilterra hanno fatto degli studi sugli anziani, erano disperati e avevano bisogno di usare il vaccino comunque e l'hanno usato sugli anziani e hanno fornito dei dati che il vaccino funziona anche sugli anziani. Oggi il vaccino è raccomandato per qualsiasi persona al di sopra dei 18 anni. Ma non perché sotto i 18 anni fa male, perché non abbiamo ancora dati sotto i 18 anni. Quindi quando abbiamo delle risposte incongruenti verso cui poi si torna indietro è perché la pandemia ci ha messo in condizioni difficilissime di fare in fretta, perché ogni ritardo può dire persone che muoiono e che avrebbero potuto essere salvate. E dall'altra parte c'è la cautela non autorizzare qualcosa se non abbiamo delle evidenze chiare che ci dicano che può essere fatto. Oggi voi sentite molta polemica, molte discussioni, per esempio sul vaccino Sputnik 5, Sputnik 5. Perché? Perché i suoi dossier sono incompleti, ancora non fatti bene, non danno ancora la garanzia. Ma soprattutto su questo vaccino e sui vaccini cinesi non abbiamo dati sugli impianti produttivi e sulla qualità della produzione. L'EMA, l'FDE, la MRH inglese vanno a controllare il posto dove vengano fatti i vaccini, vanno a controllare se le pratiche di laboratorio sono corrette, se la qualità del vaccino rimane costante. Fare un vaccino non è come fare delle lavatrici o mettere su un impianto di automobili, è molto più delicato perché bisogna garantire una costanza nel tempo della qualità del prodotto che viene diffuso e viene diffuso in milioni di coppie in tutto il mondo. A questo punto il vaccino viene registrato. In questo caso, nel caso della pandemia, l'FDE americana ha un termine particolare, approvato in condizioni di emergenza. Finché c'è l'emergenza si giustifica la messa, la diffusione di quel vaccino. L'EMA è più cauta, l'EMA fa un'approvazione definitiva, definitiva ma sempre sulla base dei dati che arriveranno dello studio di fase 4, cioè dello studio di post marketing. Quando il vaccino viene diffuso nel mondo, l'efficacia di questo vaccino viene valutata da complessi studi statistici che vanno a vedere quante sono le persone che si ammalano dopo essersi vaccinate, quante sono le persone che muoiono dopo essersi vaccinate, quante sono le persone che hanno dei problemi che possono essere connessi al vaccino. E quindi il vaccino rimane sotto esame per tutto il tempo in cui viene distribuito nella popolazione. Quindi il vaccino è sempre un'approvazione temporanea, se vogliamo. Il vaccino, a un certo punto, può essere ritirato perché le condizioni non giustificano più il rischio, piccolo rischio che comportato dal vaccino può essere relativamente grande rispetto al rischio di prendere la malattia. Esempio tipico, molti di noi, specialmente quelli che hanno i capelli bianchi, sono stati vaccinati contro la poliomielite, contro un vaccino che veniva messo delle goccioline su uno zuccherino e si prendeva per bocca. Era il vaccino di Sebin, un vaccino efficacissimo nel combattere la poliomielite. La poliomielite è stata eradicata dall'Italia e in gran parte del mondo. Oggi nessun bambino viene in Italia, viene più vaccinato col vaccino Sebin, perché non essendoci più un forte rischio di poliomielite, questo vaccino è troppo forte, le complicazioni, gli eventuali effetti avversi connessi a questo vaccino, non giustificano più questo vaccino. Si usa un vaccino meno efficace, ma molto meno pericoloso. Assolutamente, anzi, del tutto non pericoloso. Quindi il vaccino è sempre sotto esame. Questo studio di fase 3 non termina mai per tutto il periodo in cui il vaccino viene diffuso nella popolazione. Volevo chiederti, questa procedura, questo protocollo, non so come definirlo, viene condiviso in tutto il mondo o c'è qualche Stato che ha contratto una fase o ha seguito delle scorciatoie magari un po' pericolose. Assolutamente, viene fatto da ogni paese del mondo. Ogni nazione fa quello che crede meglio. L'EMA è l'ente europeo. Se un vaccino è approvato dall'EMA può essere diffuso in tutta l'Europa, ma l'Italia o l'Ungheria possono approvare un vaccino al di fuori dell'EMA. Indipendente, l'Italia può decidere che vuole approvare un vaccino o un farmaco che invece in Europa non è approvato. Quindi ogni Stato ha una sua indipendenza. Ogni ente regolatorio, l'EMA, l'FDA, regolano invece per tutta questa sopranazione, l'Unione Europea, gli Stati Uniti. Ma ogni Stato può fare quello che vuole. Per cui ci sono Stati che hanno delle procedure di registrazione molto lasse, molto scadenti, che non hanno particolare attenzione nell'approvare il vaccino. O esistano condizioni così tragiche per cui il rischio ipotetico dato dal vaccino appare molto piccolo rispetto al rischio della malattia. Quando si parla del contrasto che c'è tra l'Inghilterra e l'Europa, è proprio questo. In Inghilterra si è creata, a un certo punto, alcuni mesi o sono, una situazione così drammatica per cui l'Inghilterra ha deciso di accettare i vaccini al di fuori dei controlli che normalmente sarebbero stati fatti. Perché la situazione era veramente drammatica. L'EMA ha sempre invece avuto un atteggiamento molto più attento alla sicurezza dei vaccini rispetto alla necessità immediata. Ecco, adesso ci avevi promesso anche di portarci a vedere un impianto di produzione. Cioè, come si producono i vaccini? Perché sulle lavatrici qualche idea ce l'abbiamo, ma magari sui vaccini credo che nessuno di noi abbia l'idea di come si produce, qual è l'impianto che serve. Esatto. Produrre un vaccino, come vi ho detto, è una cosa molto delicata. Molto delicata per vari motivi, perché ci vogliono impianti di alta, se non altissima tecnologia, che sono diversi a secondo ogni tipo di vaccino. Ci sono vaccini RNA, vaccini DNA, vaccini su cellule uccise, vaccini su virus inattivati. Quindi devono essere degli impianti diversi a secondo del tipo di tecnologia che viene usata. Poi, come sentite parlare spesso, specialmente adesso nella polemica che l'Italia ha fatto con l'AstraZeneca, ci sono degli impianti che producono l'essenza del vaccino, l'effetto costitutivo del vaccino. E gli impianti cosiddetti di infialamento, impianti in cui questo vaccino viene distribuito e è messo nei vasetti, nelle ampolle che vengono distribuite. Entrambe le cose sono estremamente delicate, perché devono garantire la stabilità del vaccino in condizioni particolari. Quello Pfizer deve essere mantenuto a temperature bassissime. Quindi richiedono entrambi delle tecnologie molto complicate. Questi impianti sono basati su delle norme codificate che sono conosciute come GMP, Good Manufacturing Practice, le buone pratiche di fabbricazione. L'aria deve essere controllata costantemente, la temperatura dell'ambiente, la qualità dell'acqua, ogni caratteristica dell'ambiente dove viene fabbricato il vaccino deve essere controllato continuamente, ci sono continue ispezioni da parte degli enti regolatori, per cercare di garantire che il vaccino non venga fatto male, che gli impianti garantiscano la ripetitibilità del processo e la costante conformità del vaccino. E qui casca l'asino, qui cascano i problemi coi vaccini fatti in Cina e fatti in Russia, perché benché la ricerca in questi stati sia avanzatissima, competitiva con quella europea e americana, spesso la produzione, gli impianti produttivi non sono in grado di superare le ispezioni e verifiche e i controlli. La qualità del vaccino non è così costante. Questo è il problema spesso con i prodotti che arrivano dall'Oriente, che spesso rischiano di avere una qualità scadente, anche se sono progettati molto bene. E questo è un rischio che appare oggi inaccettabile con i vaccini. Poi sono tecnologie che prima non esistevano. Voi pensate che i vaccini a RNA hanno cinque anni di vita culturale e tecnologica. Nella sfortuna della Covid-19 siamo stati fortunati che arrivata cinque anni adesso, cinque anni fa, non saremmo stati in grado di produrre nessuno dei tre vaccini oggi in circolazione in Italia. Quindi tecnologie molto elevate e problemi con i paesi a bassa tecnologia, che spesso hanno un'altissima capacità di ricerca, ma non una buona capacità industriale nella produzione del vaccino. Poi è un altro punto molto molto delicato. In genere mettere a punto un vaccino è un'impresa commerciale rischiosa, che le compagnie private sono restie ad affrontare. Una cosa è mettere a punto una pastiglia che toglie il mal di schiena o toglie il mal di testa, una cosa è mettere a punto un vaccino. L'investimento economico necessario, il rischio e le prospettive di guadagno rendano l'impresa, da un punto di vista commerciale, estremamente rischiosa. Costo medio di un nuovo vaccino almeno 900 milioni di euro. Oggi credo che siamo passati come minimo su un miliardo di euro. In genere, da quando si viene finanziata l'idea del laboratorio per creare il nuovo vaccino, a quando il vaccino può essere messo in commercio e dare dei guadagni commerciali, passano in genere dieci anni. E fino ad ora le probabilità del successo di un vaccino sono circa il 6%. Quindi è chiaro che sono poche le ditte che spinte da un interesse commerciale si avventurano nella avventura rischiosissima di mettere a punto un vaccino. Non è un campo particolarmente vivo nella ricerca biologica. Ci sono campi che sono studiatissimi dalle big pharma. I vaccini rappresentano una piccolissima parte della ricerca biologica contemporanea, farmacologica contemporanea. E questo porta a un problema enorme che se non c'è guadagno, dato che queste imprese in Europa, in America, ma anche in Cina ormai e praticamente in tutto il mondo lavorano con la logica del mercato, non c'è guadagno, non c'è vaccino. Questa è una cosa drammatica perché ha delle conseguenze molto, molto pesanti per moltissime malattie che stanno devastando l'umanità al di fuori della Covid-19 che è arrivata adesso. Sto parlando delle condizioni indipendenti da questa drammatica pandemia. Quindi questo vuol dire che non ci sono vaccini specifici per le malattie dei paesi poveri perché costa troppo caro, ci vuole troppi soldi per mettere a punto questi vaccini. Ci si adatta i vaccini che vanno bene per gli stipiti europei che vengono utilizzati in Africa o in paesi dell'estremo Oriente in cui magari il microbo è leggermente diverso e non rispondere a quel vaccino. E non c'è mercato, quindi non ci sono vaccini contro le malattie che avrebbero potuto creare gravi epidemie. C'è quindi questa situazione drammatica di resistenza da parte delle industrie farmacologiche di imbarcarsi nella messa a punto dei vaccini. E di fronte a questa situazione c'è stata una grossa reazione da parte delle organizzazioni mondiali che hanno cercato di avere dei finanziamenti specifici da investire, da spingere le ditte a imbarcarsi nell'impresa di fare i vaccini togliendo in parte il capitale di rischio, fornendo in parte il capitale di rischio. E particolarmente interessante è nel 2017, durante le riunioni a Davos, le riunioni economiche di Davos, i paesi del nord Europa, principalmente la Norvegia, ha spinto per la creazione di una fondazione di importanza fondamentale, la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, la CEPI, che è una fondazione che studia come mettere a punto più rapidamente possibile i vaccini o possibili vaccini contro le malattie che potrebbero creare gravi epidemie. Capite subito come è stata questa fondazione che appena la Covid è stata identificata e ha incominciato a diffondersi nel mondo, è stata quella che per prima ha finanziato i primi studi delle varie imprese, delle varie università a sviluppare inizialmente i vaccini. Ma certamente questo panorama sonnolento dei vaccini, questo panorama negletto dei vaccini è cambiato tutto con la pandemia da Covid-19, che ha completamente stravolto il modo di fare i vaccini. Stravolto perché in questo caso il capitale di rischio era così grande che il capitale di rischio non è stato più dell'impresa. Fondamentalmente i vaccini che oggi abbiamo sono stati ottenuti da grandi investimenti, capitali investiti enormi da parte delle fondazioni e dei vari paesi. E qui vediamo come ogni paese nel mondo, ha sviluppato il vaccino sempre seguendo inesorabilmente ormai le logiche del mercato, ma con capitali di rischio forniti da vari enti diversi. Noi non conosciamo bene qual è stata la meccanica economica in Cina, a Cuba e nella Russia, in cui in parte c'è lo Stato ma c'è già l'industria privata, a finanziare la messa a punto dei vaccini contro la Covid. Ma efficacemente la Cina, Cuba e la Russia sono riusciti a mettere sul mercato in tempi competitivi con le altre nazioni dei vaccini, in parte molto efficaci, in parte di efficacia meno grande. Una logica diversissima è quella dell'India. Molti di noi non lo sanno, ma l'India è il più grande produttore di vaccini nel mondo. I vaccini nel terzo mondo, nei paesi poveri, vengono tutti prodotti in India grazie a organizzazioni immunità umanitarie che hanno investito quantità enormi nella tecnologia indiana per far sì che i vaccini possono essere messi prodotti a costi molto bassi, ma con tutte le ispezioni, controlli e qualità che hanno i vaccini nei paesi occidentali. Questa fantastica organizzazione che si chiama GAVI, la Global Alliance for Vaccine and Immunization, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa, la Fondazione Bill e Melinda Gates, hanno aiutato in maniera enorme l'India, un istituto indiano, a diventare il più grande produttore mondiale di vaccini ad altissima qualità e a bassissimo prezzo. E questo lo fanno essenzialmente tramite questo meccanismo chiamato APA, Advanced Purchase Agreement. Di fronte alla possibilità di mettere a punto un vaccino, queste fondazioni comprano le dosi di un vaccino che non c'è ancora, in modo da garantire alla ditta i fondi per fare la ricerca e coprire il rischio. Se la ditta non riesce a mettere a punto il vaccino, sono le fondazioni che hanno pagato, che hanno finanziato questa tentativa di mettere a punto il vaccino. Se il vaccino viene prodotto, grazie all'APA, il vaccino ha un prezzo definito e a questo prezzo le fondazioni umanitarie possono acquisirlo e cercarlo di distribuirlo nei paesi più poveri del mondo dove questo vaccino è più necessario. Quindi vedete già in questo piccolo panorama come il finanziamento, il rischio economico per coprire quest'impresa, che comunque abbiamo visto essere molto rischioso, viene coperto in maniera molto differente e in maniera di nuovo tipica delle nazioni e come è stato fatto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è stato fatto un progetto competitivo statale a cui sono state invitate tutte le ditte degli Stati Uniti e su una base competitiva ne sono state scelte sei che sono state incluse in questa Operation War Speed, operazione di velocità stellare. War Speed è una frase dei film di fantascienza che vuol dire appunto velocità incredibile dove gli Stati Uniti con quella capacità che a noi sfugge completamente impossibile in Europa dove abbiamo sospetti, leggi e regole molto complicate, l'ente statale di ricerca, il National Institute of Health, NIH, l'esercito degli Stati Uniti che è una tradizione antichissima nella messa a punto dei vaccini, il centro che regola i finanziamenti dei grant universitari, il DOD, il department di difesa, quindi l'altra parte dell'esercito, hanno cooperato con i capitali privati, con le industrie private per mettere a punto i vaccini nel tempo più veloce possibile a qualsiasi prezzo. La quantità di soldi investiti in America è stata strabiliante su questi vaccini e l'America è riuscita a portare a termine questi vaccini innovativi, i due vaccini che stanno per primi cambiando il panorama mondiale dei vaccini, quello di Pfizer e quello di Moderna, sono il risultato di questa Operation War Speed. Pfizer è stato un po' a parte in questa, Moderna è stata totalmente guidata da questa, dove privato e pubblico erano continuamente mescolati tra di loro. Il direttore di questo Operation War Speed era il direttore di un'industria privata, cosa che in Europa sarebbe stato uno scandalo incredibile. Tutto questo con uno stile molto predatorio, molto efficace, ma anche totalmente ispirato da questa politica dell'amministrazione Trump di America First. Questi vaccini dovevano essere pronti per il popolo americano. Non avevano nessun interesse e nessuna base di una distribuzione mondiale dei vaccini. Quelli sono stati poi contratti che i vari enti, le varie nazioni hanno fatto con le varie industrie. Ma l'Operation War Speed era esclusivamente, fondamentalmente, per proteggere il popolo degli Stati Uniti. Tipica ideologia americana, tipica ideologia dell'amministrazione Trump. E poi ci siamo noi. C'è l'Europa, con tutti i problemi, oggi tutti criticano l'Europa, ma l'Europa ha fatto inizialmente delle cose che sulla carta apparivano molto giuste. L'Europa ha cercato, anche lei, di applicare gli APA, cioè questi acquisti di vaccini che non esistevano, in maniera da stimolare le ditte che avevano sedi in Europa a creare i vaccini, dare dei fondi a fondo perduto, ma con la preoccupazione fondamentale dell'Europa era di un'equità tra le nazioni. Cioè la preoccupazione fondamentale dell'Europa non era, come l'America, la velocità e l'efficacia. Era una giustizia tra le nazioni e un'equa distribuzione nel mondo dei vaccini che man mano venivano messi a punto. Quindi delle premesse estremamente nobili e giuste, con un unico centro di acquisti per comprare i vaccini da chiunque le producesse e poi ottenuto, spuntato, un prezzo particolarmente favorevole, distribuirlo nelle varie nazioni in Europa sull'esclusiva base della quantità della popolazione locale. E in ultimo cercare di finanziare la produzione locale. Quindi se voi andate a vedere le carte dell'Europa, sono bellissime, sono... uno rimane veramente orgoglioso di essere parte di una nazione che ha preso queste decisioni. L'Europa è stata fondamentalmente molto sfortunata. Mettere a punto i nuovi vaccini, come vi dicevo, è un'operazione rischiosa. Noi parliamo dei vaccini che hanno avuto successo, ma c'è un'enorme quantità di vaccini che non hanno avuto successo. Quali sono stati i problemi dell'Europa? Parlando chiaramente, l'Europa ha contato moltissimo sulla più grande ditta europea produttrice di vaccini. Credo che tutti voi siate stati vaccinati con dei vaccini fatti dalla ditta Sanofi o dalle sue subsidiarie, che è la più grande ditta europea fabbricatrice di vaccini. E c'è un altro centro fantastico nello studio dei vaccini, che è lo studio della GSK, GlaxoSmith&Kline, a Siena, guidato da Rino Rappuoli. Sono due punte di diamante della ricerca europea. L'Europa ha comprato 300 milioni di dosi con gli advanced agreement della Sanofi e dell'adjuvanti ottenuto in cooperazione con Siena. E questo progetto è andato a male. Finora non ha dato risultati. Nella corsa per i vaccini, questo vaccino arriverà, ma arriverà tardi. Ci sono stati degli sbagli e dei problemi perché, come vi dicevo, mettere a punto un vaccino non è una cosa facile. Non è un'operazione che si pianifica come mettere a punto un impianto di lavatrici o progettare un nuovo automobile. Si trattava di fare qualcosa che non esisteva e che in Europa è andata male e non ha funzionato. L'Europa non ha quell'aggressività economica, non può averla, quell'aggressività economica degli Stati Uniti, che hanno questa enorme plasticità pubblico-privato dei finanziamenti molto prammatici. La ditta BioNTech che ha messo a punto il vaccino della Pfizer, quel primo vaccino che abbiamo avuto e probabilmente uno dei più efficaci, è una ditta europea che aveva sviluppato questo vaccino con tutti i finanziamenti europei e alla fine è stato acquisito con degli accordi fondamentali della Pfizer che ha permesso la produzione del vaccino che la BioNTech non poteva fare e che non aveva partner in Europa per poter ampliarsi in questa maniera. Quindi di nuovo la politica un po' predatoria, molto dinamica degli Stati Uniti ha portato via un partner importantissimo all'Europa. E poi abbiamo un progetto avanzatissimo di un'altra ditta tedesca, la CureVac, su cui l'Europa ha investito di nuovo moltissimo. Questo progetto è un vaccino a RNA, uguale a quello di Moderna e della Pfizer, ma con caratteristiche molto migliori. Può essere conservato in frigorifero, sulla carta ha dei vantaggi notevoli, ma per motivi che non so dirvi, ma dai motivi reali, questa ditta CureVac tedesca arriverà sul mercato, ma arriverà in ritardo e nella lotta contro la pandemia il tempo, la corsa contro il tempo è stata un problema drammatico. Quindi questi sono gli aspetti della produzione dei vaccini nel mondo e le caratteristiche che rendono difficile la programmazione dei vaccini, l'acquisto dei vaccini e la distribuzione dei vaccini. Perché si tratta di qualcosa di nuovo, qualcosa la cui messa a punto ha un livello di rischio molto molto elevato. Beh, direi che questo panorama così dettagliato dà proprio l'idea ed è un'idea che purtroppo, diciamo, normalmente nei mezzi di informazione non circola, per cui è veramente preziosa questa panoramica. Io però ti chiederei ancora uno sforzo, perché veramente ti stai spendendo molto, per entrare magari un po' a volo d'uccello, senza entrare nel dettaglio specifico, per capire la diversità dei vaccini. Perché tu, a un certo punto hai detto che parte da un'ideazione creativa. Io avevo l'idea che i vaccini si fanno tutti allo stesso modo, cioè che creatività c'è dietro un vaccino, insomma. E invece mi sembra di capire che sono tantissime le strade per arrivare a produrre un vaccino e che all'inizio ci vuole un'idea così creativa, un'intuizione che può andar bene o può andar male. Tu puoi farci questa panoramica, questa carrellata della situazione? Soprattutto se avete ancora pazienza di ascoltarmi. Io ti ascolterei per ore e ore, quindi insomma, perché è davvero illuminante, diciamo così. Come voi sapete, avete visto centomila volte, lo vediamo in televisione tutte le sere, in varie salse, eccetera. Abbiamo a che fare con questa struttura, che non sappiamo neanche se è una cosa vivente o non è una cosa vivente, si discute se i virus siano vita o non vita, questa struttura elementare e rapidamente si è capito che la parte fondamentale verso cui adrezzare la risposta immunitaria è questo funghetto che sporge da questa piccola particella oleosa di pochi micron, la famosa proteina spike che si aggrega tre di queste proteine sulla membrana che dà l'aspetto di una specie di corona intorno a questo virus. E quando bisogna fare dei vaccini ogni paese ha pensato a strategie diverse, abbiamo tutta una serie di strategie diverse. come far sì che il nostro sistema immunitario induca anticorpi, espanda i linfociti, generi una memoria immunitaria, rilegandomi alla prima immagine che vi ho fatto vedere, contro questa proteina spike. Il metodo più semplice, più classico, legarsi alla storia dei vaccini, un metodo ottocentesco se vediamo, ma ancora efficace, è quello di prendere il virus, coltivarlo in vitro, inattivarlo chimicamente in maniera da renderlo morto e vaccinare con questo virus morto. Quindi si chiama il virus inattivato, non funziona più, non è più in grado di dare la malattia, viene inoculato dentro di noi e il nostro organismo crea anticorpi, crea una memoria immunitaria, crea i linfociti contro tutti i costituenti di questo virus. Quindi facciamo una grossa risposta immunitaria di cui solo una piccola parte è quella importante, perché abbiamo capito rapidamente che l'unica risposta immunitaria importante è quella contro la proteina spike, che è quella che permette al virus di entrare nelle nostre cellule. È inutile fare una risposta immunitaria contro le parti gialle, contro le parti viola, contro le parti azzurre di questo virus, non serve a niente. Bisogna farle solo contro la proteina spike, però usando questo metodo tradizionale relativamente più semplice è possibile, si crea una risposta immunitaria contro tutto. Quindi il nostro sistema immunitario crea tante risposte diverse, tanti linfociti vengono attivati, la maggior parte non servono a niente, servono solo quelli contro la proteina spike. E questa tecnologia antica è stata usata principalmente in Cina, dove sono stati messi a punto tre vaccini, che hanno un'efficacia molto discutibile, perché non sono mai stati finiti gli studi di fase 3 fatti bene, non abbiamo mai avuto i dati. Sono stati distribuiti in tanti paesi del mondo su motivi politici, da enti regolatori che l'hanno accettati senza particolari controlli e non sappiamo se abbiano un'efficacia del 50% o del 90%. Ad ogni modo sono i vaccini più tradizionali. Ce n'è anche un vaccino così fatto in India e c'è anche un vaccino basato su questo metodo fatto nel Kazakistan. È un metodo relativamente semplice, è molto complicato produrre miliardi di virus, ma è relativamente semplice trovare un fissativo che uccida questo virus, mantenga la struttura e possa indurre in qualche modo una risposta immunitaria. Un altro metodo più tradizionale ma un pochino più evoluto è quello di prendere soltanto quella parte di informazione del virus che codifica questa famosa proteina spike. Trasformare l'RNA del virus in DNA e far produrre in vitro dalle culture di cellule d'insetto che si coltivano molto bene in enormi quantità di tini, far produrre questa proteina spike che può essere legata con degli adiuvanti e questo tipo di approccio è quello usato dalla Sanofi in Francia con la GSK, da una ditta in Russia e da una ditta in Giappone. Finora non sono arrivati a produrre ancora questo vaccino in maniera efficace, ma è basato sulla proteina spike che viene prodotta in vitro da cellule d'insetto in cui è stato messo il DNA che codifica questa proteina. Più interessante e potrebbe essere addirittura rivoluzionario è un progetto fatto da una ditta canadese detta Medicago legata a una ditta produttrice di tabacco e quindi esperta nella tecnologia dei tabacchi in cui questo DNA che codifica la proteina spike viene messa in una pianta di tabacco per cui è possibile coltivare coltivazioni di tabacco e ottenere, purificare dalle foglie del tabacco la proteina spike che viene poi aggregata con un adiuvante fatto di nuovo a Siena, a questo centro di Siena della GSK. Questo è in fase 3, non abbiamo nessun dato di come funziona, lo studio è tenuto segreto per ora, ma potrebbe essere una rivoluzione enorme perché produrre il vaccino coltivando piante di tabacco sarebbe un metodo estremamente semplice per produrre a costi irrilevanti quantità enormi di vaccino. Poi sono i vaccini virali come il vaccino dell'AstraZeneca. In questo caso il DNA che codifica la proteina spike viene messa all'interno di un virus, un virus tipico del raffreddore, un adenovirus, il quale virus non è più capace di moltiplicarsi e il vaccino quindi costituito da una tecnologia particolare, questo DNA viene trasportato da questo virus, il virus infetta le nostre cellule, penetra nelle nostre cellule. Le nostre cellule producono che cosa? Soltanto la proteina spike perché è l'unico DNA disponibile e la proteina spike prodotta dalle nostre cellule viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario come stranea e reagiamo contro questa proteina spike. Questa tecnologia è quella usata da un vaccino cinese che sembra funzionare piuttosto bene, che sta finendo lo studio di fase 3, dal famoso vaccino Sputnik V russo che usa due virus differenti, uno per la prima iniezione e uno diverso per la seconda iniezione, l'adenovirus di tipo 5 e l'adenovirus di tipo 26, e quello della Johnson & Johnson che probabilmente sarà approvato tra qualche settimana, il quale è basato sull'adenovirus 26. In questo caso il virus serve come trasportatore di questo pezzettino di DNA che una volta entrato nelle cellule in cui è arrivato il vaccino produrranno questa proteina spike e indurranno una risposta specifica contro la proteina spike. E in ultimo ci sono i vaccini più nuovi, quelli più rivoluzionari per noi, che sono i vaccini a RNA in cui si prende solo l'RNA del virus e direttamente l'RNA che codifica la proteina spike, lo si mette in piccolissime vesicolette lipidiche e si inoculano queste vesicolette lipidiche sempre nel muscolo. Le vesicolette si fondono con qualche nostra cellula la quale produrrà per certe qualche ora la proteina spike che viene riconosciuta e viene attiva la risposta immunitaria. E questa è la tecnologia del famoso vaccino Pfizer che per ora è utilizzato alla grande in Europa, dal vaccino moderna che arriva scarsamente in Europa perché è quello più finanziato dal governo degli Stati Uniti e dal vicino CureVac che speriamo tra poco possa essere messo in commercio vaccino, in questo caso totalmente europeo. E vorrei finire facendo rivedere che cosa noi immaginiamo che funzionano in questi vaccini a RNA o DNA. Con la siringa nel deltoide viene inoculato il vaccino e qualche cellula del nostro muscolo, qualche cellula viene infettata da questo virus, se il virus inocula il virus o dalla particella lipidica che porta il DNA. Viene usato il deltoide perché è una zona come voi sapete piena di linfonodi e nei linfonodi è dove si stabilisce la famosa memoria immunitaria. I linfonodi si dilatano e abbiamo i cloni di linfociti che reagiscono contro questa proteina spike e si formano in questi linfonodi. Allora una volta che viene inoculato abbiamo queste vescicolette che si fondono con qualche d'una delle nostre cellule del deltoide. Le cellule del deltoide incominceranno a produrre anche la proteina spike, cioè produrre qualcosa che normalmente loro non fanno, produrre qualcosa che viene codificato da questo DNA o da questo RNA che è arrivato nella cellula. La proteina spike stranea viene riconosciuta dai linfociti, dai macrofagi, dalle cellule dendritiche che arrivano nella zona, creano quella dolenzia che la persona provoca dopo la vaccinazione, eventualmente si rigonfiano i linfonodi drenanti perché queste particelle arrivano nel linfonodo, portano la proteina spike e i frammenti o arrivano le cellule che l'hanno riconosciuta e nel linfonodo si espandano i linfociti B memoria che creeranno gli anticorpi e i linfociti T memoria che uccideranno e combatteranno contro le cellule infettate dal virus. Ecco, grazie di questo viaggio io però ne approfitto di te, ti spremo fino all'ultimo perché alcuni mi hanno chiesto e sollecitato a domande relative all'immunità che il vaccino suscita, così come anche la malattia suscita, che differenza c'è tra l'immunità individuale e l'immunità di gregge? Come si ragiona in questo mondo? Si parla di una soglia da raggiungere per essere sicuri all'interno di una comunità. Com'è questa cosa? Ma qui dobbiamo chiarire le cose. I vaccini che abbiamo attualmente, come sono stati progettati, servono per evitare di ammalarsi di malattia grave o di morire dalla Covid. E la somministrazione, il piano nazionale vaccini italiano, ma fondamentalmente di molti paesi del mondo, è quello di cercare di proteggere le persone, incominciando dalle persone più esposte e passando ai più fragili. Quindi questi vaccini sono programmati e valutati per proteggere dalla malattia grave. Non tanto dall'impedire la diffusione del virus. Quindi succede, e forse era quello che volevi chiedermi anche, che questi vaccini non impediscano efficacemente la diffusione del virus. Io sono protetto, non mi ammalo di una malattia grave o eventualmente una Covid leggera, nel caso sfortunato, o non ho nessuna Covid, ma non è escluso che il virus possa ancora essere presente nella mia mucosa nasale. Quest'immunità generale non riesce ancora a eliminare questo. Quindi questi vaccini, la quantità e la distribuzione, hanno per ora come obiettivo quello di proteggere le persone, evitare i ricoveri ospedalieri, evitare di morire. E i risultati che stiamo ottenendo dall'Inghilterra e dalla Scossia e da Israele sembra che davvero questi vaccini riescano a farlo. Un altro problema è riuscire a diffondere questi vaccini a una quantità tale di persone da ridurre talmente la diffusione del virus, da rendere il virus non più circolante e da controllare la Covid. Quindi l'obiettivo di raggiungere questa immunità di gregge o di comunità, come uno lo vuol dire, che è un obiettivo molto difficile e molto lontano. E non so se questi sono i vaccini più opportuni per raggiungere questo risultato. Speriamo che ci siano dei nuovi vaccini che riescano anche a bloccare la diffusione della malattia. Molto chiaro. Quindi anche quello di cui si parla, il passaporto vaccinale, eccetera, in questo momento è del tutto prematuro, giusto? Beh, il passaporto vaccinale è chiaro che se una persona è immunizzata diffonderà meno malattia di una persona che si sta ammalando. Il grosso problema è ammalarsi, però ha i limiti che tu dicevi, perché non possiamo escludere che una persona vaccinata continui a diffondere il virus intorno a sé. È chiaro. Sì, sì, sì. Bene, io non so come ringraziarti, penso che tutti gli amici e le che ci seguono... Che sono sopravvissute fino ad ora che non... No, no, no. Noi riceviamo anche tanti attestati di stima e di ringraziamento che poi ti... di cui mi faccio portavoce, insomma, perché portare un po' di chiarezza, un po' di... come dicevo all'inizio, cioè noi dobbiamo essere cittadini informati per essere cittadini sovrani e consapevoli, insomma. Quindi queste sono occasioni molto preziose. Sei ufficialmente un amico della biblioteca di Brugherio, quindi resti nel... Bene, grazie mille, grazie dell'invito e scusate se sono stato un po' noioso. È lungo. Molto chiaro e prezioso. Chiamolo ogni bene e speriamo di rivederci o sentirci ancora presto.